Se siete alla ricerca di un processore per il vostro pc o la vostra workstation che sia relativamente economico e che vi offra ottime prestazioni in tutte le applicazioni di produttività beh guardate questo video perché la CPU di oggi sono sicuro che vi potrà interessare oggi andremo a parlare dell'i5-13500 Ciao ragazzi ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Aropazzo oggi siamo qui con questo i5 di tredicesima generazione CPU che reputo molto interessante per il suo rapporto qualità prezzo ottimo e per le sue prestazioni in produttività che dovrebbe avere quantomeno sulla carta sì perché ci troviamo di fronte a un processore con 6 core e 12 thread per quanto riguarda i core ad alte prestazioni ma con l'aggiunta anche di 8 e core cioè i core ad alta efficienza che Intel ha introdotto dalla dodicesima generazione che comunque ecco possono svolgere diversi programmi, diversi carichi di lavoro insomma quindi sono effettivamente dei core a tutti gli effetti e quindi molto spesso ritroveremo questo processore i5 alle costole in termini di prestazioni rispetto ad altre CPU di fascia anche più alta come per esempio Ryzen 7 e infatti proprio oggi andremo a confrontarlo poi durante i benchmark che vedremo fra un attimo proprio con questa CPU cioè un Ryzen 7 7700 ma prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche così da rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali telegram di offerte uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro per quanto riguarda hardware e videogiochi ma usati in entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon quindi siete coperti da garanzia e assistenza e quindi mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio visto che passano sempre delle belle offerte detto questo vi invito anche a seguirmi sui miei canali di Instagram e di TikTok e ora direi che possiamo tornare a parlare di questa CPU uscita inizio del 2023 questo i5 si presenta come l'alternativa di fascia media di Intel in risposta agli AMD Ryzen 5 usciti in quel periodo infatti proprio a fine 2022 sono usciti sia i Ryzen 7000 che gli Intel di tredicesima generazione però inizialmente come saprete sono usciti prima i modelli diciamo overclockabili comunque sbloccati e poi sono uscite le revisioni dopo qualche mese con ecco un pochino di riguardo in più rispetto ai consumi infatti questa CPU non può essere overclockata però parte con un TDP di base di 65 watt e vedremo anche come consumi non è per nulla male certo i Ryzen ovviamente fanno un'ottima concorrenza perché veramente AMD con l'architettura Zen 4 dal punto di vista dell'efficienza energetica ha veramente sbancato in ogni caso ci troviamo di fronte a una CPU con architettura Meteor Lake cioè tredicesima generazione che è praticamente identica al suo fratello maggiore l'i5-13600K il core è praticamente identico perché parliamo sempre di un 6p core con 12 thread più 8 e core quindi in totale 14 core e 20 thread e oltre a questo abbiamo frequenze in boost che arrivano fino a 4,8 GHz poi ovviamente andremo a vedere nei test se questa frequenza è raggiungibile da tutti i core ma vi dico subito che no perché di solito si ferma intorno ai 4,5 GHz in un carico su tutti i core e per quanto riguarda invece gli e-core arrivano a una frequenza di 3,5 GHz mi pare in boost e visto che sono tanti effettivamente possono venire molto in aiuto e ripeto lo andremo a vedere meglio nei benchmark in termini di memoria cache di livello 3 questo i5-13500 è identico al 13600K perché abbiamo sempre 24 MB di cache L3 la cosa che cambia è la cache di livello 2 perché mentre per l'i5-13600K abbiamo 2 MB di cache livello 2 per core in questo caso abbiamo 1,5 MB di cache per core ad ogni modo la piattaforma di test dove andremo a eseguire tutti i benchmark è composta da una scheda madre GB B760 Gaming X da 32 GB di memoria RAM DDR5 della G-Skill sulle Trident Z 6400MHz CL32 come dissipatore andremo a utilizzare un Thermalright singolatore che comunque vi dico subito riuscirà a gestire senza problemi questo i5 come scheda video ovviamente la RTX 3090 EVGA For The Win 3 Ultra e come alimentatore andremo a utilizzare un EVGA GQ 1000W 80 Plus Gold detto questo direi che possiamo iniziare con i benchmark prima di iniziare con i test una panoramica veloce sulle frequenze osservate a pieno carico in questo caso abbiamo 4,5 GHz per i P-Core e 3,5 per gli E-Core con un carico single thread abbiamo un thread che arriva a 4,8 GHz o giù di lì insomma tra i 4,7 e i 4,8 quindi come da specifica e per iniziare abbiamo Cinebench R23 confrontando l'i5 col 7700 vediamo qua Intel va veramente forte perché in multicore raggiungiamo e superiamo il Ryzen 7 7700 mentre in single core abbiamo un punteggio un pochino inferiore di quasi un centinaio di punti Cinebench 2024 più o meno stessa storia in multicore l'i5-13500 è in vantaggio rispetto al Ryzen 7 tra l'altro overclockato a 5.3 su tutti i core mentre in single core anche qua il Ryzen 7 è in vantaggio 7-zip abbiamo che in compressione è in vantaggio il Ryzen 7 e anche in decompressione questo diciamo è un test che favorisce abbastanza i Ryzen comunque i Ryzen dove i Ryzen vanno effettivamente molto forti quindi ecco in questo caso abbiamo un vantaggio da parte di AMD Blender open data 4.0 abbiamo che l'i5 fa un pochino meno punti rispetto al Ryzen 7 circa 14 punti in meno quindi comunque anche qua vediamo la leadership del Ryzen 7 che diciamo non è scontata visto i risultati su Cinebench mentre ecco su Blender B-MFU demo abbiamo un risultato che è praticamente analogo per tutte e due le CPU quindi 122 secondi contro 121 e qualche centesimo quindi anche qui risultati veramente molto comparabili su V-Ray abbiamo un punteggio in v-samples di 20.300 per l'i5 e di 21.374 per il Ryzen 7 quindi anche qua vediamo che il Ryzen è in vantaggio e passando ora a Geekbench 6 abbiamo i due punteggi single core e multi core che sono superiori nel caso del Ryzen 7 di insomma un po' di punti qualche centinaio di punti in entrambi i casi questo perché si vede che questo test preferisce ecco dei core magari più potenti rispetto ecco all'architettura ibrida dell'i5 mentre su Corona Benchmark 1.3 abbiamo un tempo di rendering praticamente identico in entrambi i casi 71 secondi per l'i5 e 70 secondi per il Ryzen 7 abbiamo poi DaVinci Resolve con il Puget Benchmark in questo caso applicato a questo software e abbiamo 2543 punti dell'i5 contro il 2730 vediamo anche qua insomma che il Ryzen è in vantaggio rispetto all'i5 e partendo col primo gioco abbiamo contro il testato in full hd e settaggi di digital foundry qui l'i5 arriva a 210 fps circa di media che sono 10 fps in meno rispetto a quelli del Ryzen 7 7700 per l'1% low è invece l'i5 a fare 10 fps in più rispetto al Ryzen ma in ogni caso parliamo di due risultati veramente ottimi per tutte e due le CPU per quanto riguarda All Awake 2 qui i risultati sono un po' più noiosi perché sono praticamente identici tutti e due per il fatto che siamo completamente limitati dalla scheda video anche a questi settaggi relativamente più bassi ecco dei settaggi ultra ma ecco questo è un gioco veramente pesantissimo che pesa veramente molto sulla scheda video passando ora a Death Stranding full hd e settaggi maxati l'i5 arriva a 191 fps mentre il Ryzen 7 arriva a 201 fps quindi anche qui una differenza di circa 10 fps anche per l'1% low il Ryzen 7 è un pochino in vantaggio ma diciamo non sono differenze che poi in gioco notate chissà quanto quindi entrambi i risultati sono da considerare veramente ottimi passando ora a Fortnite testato nella stagione 2 capitolo 5 settaggi medi e full hd con impostazione cioè la modalità di gioco risa squadre abbiamo che l'i5 è un pochino dietro per l'averaggio rispetto a Ryzen 7 ma alla fine di 30 fps e questo è un test diciamo anche che varia molto da run a run quindi effettivamente la differenza c'è ma fino a un certo punto ecco parliamo comunque di ottimi framerate su God of War full hd e settaggi alti vediamo qui l'i5 è in vantaggio quasi stranamente mi verrebbe da dire nell'averaggio framerate rispetto a Ryzen 7 in ogni caso testato in full hd e settaggi alti e come un percentuale in realtà siamo più o meno lì quindi effettivamente poi come esperienza di gioco come fluidità parliamo di due esperienze come vi ho già detto negli altri test praticamente comparabili cyberpunk 2077 1080p settaggi di hardware unboxed quality abbiamo che l'i5 è un pochino dietro che effettivamente si potrebbe notare anche nei gameplay perché siamo di media sui 104 fps in una delle zone più pesanti dal punto di vista della cpu del gioco e Ryzen 7 invece arriva a 120 fps anche con un percentuale abbastanza più alto su the finals abbiamo invece settaggi sempre full hd con dlss quality e settaggi medi con ray tracing l'i5 è un pochino indietro una ventina di fps circa poco meno per l'averaggio mentre l'1% è praticamente identico in entrambi i casi quindi comunque anche per questo gioco diciamo un po' più esport sono due cpu comunque molto molto valide passando a counter strike 2 in full hd con settaggi medi ma senza fsr abbiamo che l'i5 è un pochino indietro rispetto a ryzen 7 però parliamo ecco di differenze sì anche se di 35 fps però insomma parliamo comunque di numeri veramente elevatissime quindi difficilmente noterete una differenza tra i due processori quindi ecco questo fa sicuramente piacere perché parliamo ecco di cpu molto interessanti anche dal punto di vista del gaming su battlefield 5 direct x 12 full hd 7 ag alti anche qua in questo caso ecco il gioco ha un cap del frame rate a 200 fps che riusciamo a raggiungere in entrambi i casi con tutti i due processori quindi veramente ottimo detto questo direi di passare ora alle considerazioni finali ed eccoci qui ora a discutere dei benchmark che abbiamo appena visto iniziando con quelli di produttività io devo essere sincero non mi aspettavo dei risultati così vari tra queste piattaforme perché abbiamo visto in alcuni casi l'i5 domina il ryzen 7 in altri casi ancora abbiamo una parità in termini di prestazioni in altri ancora invece il ryzen 7 è in vantaggio e per questo motivo io ci tengo sempre a testare un po' di tutto sia oltre i giochi anche diverse applicazioni in produttività perché se ci attenessimo al primo risultato che vediamo per farci poi un'idea generale ciò porterebbe a delle considerazioni che non sono proprio corrette molto spesso ho visto ecco che cinebench viene preso come caso emblematico per decretare le prestazioni in multicore o in single core e in parte è anche vero però non è il mondo reale solo cinebench perché ci sono tante applicazioni che magari o non sono ottimizzate bene posso pensare agli e-core in particolar modo o magari vanno a sfruttare altre parti del processore quindi ecco cinebench è solo parte dei test e può servire per dare un'indicazione generale però non specifica per ogni singolo test e abbiamo visto proprio in quel caso un vantaggio in termini prestazionali da parte di intel mentre se vi ricorderete qualche anno fa quando i primi ryzen erano usciti intel tendeva a non mostrare risultati dei propri processori su cinebench proprio per questo motivo che i ryzen in quel caso andavano meglio ma come vi ho già detto cinebench non era il metro di paragone generale che vi definiva alla bontà di qualsiasi cpu e infatti le cpu intel comunque continuavano a essere molto buone e desiderate per tanti altri ambiti e questo era un po' un esempio infatti in base all'ambito che andiamo a scegliere possiamo avere ecco alcuni vantaggi con una cpu e altri vantaggi con un'altra quindi anche qui dovete vedere un po' cosa serve fare a voi di solito per il rendering abbiamo visto cinebench essere in vantaggio intel magari altri tipi di render come v-ray vediamo invece che i ryzen sono in vantaggio anche se non di tantissimo in questo caso i ryzen 7, 7700 per quanto riguarda invece i giochi i risultati sono pressoché identici sì c'è un vantaggio generico da parte del ryzen 7, 7700 l'abbiamo visto insomma in diversi titoli abbiamo anche decina di fps in più però qui nel senso non è questa la differenza che vi fa dire ok prendo il ryzen rispetto all'i5 perché parliamo ecco sì anche di qualche decina qualche manciata di fps in più ma quando già ne stiamo facendo veramente tantissimi quindi in ogni caso se volete prendere uno di questi due processori per il gaming vi posso dire che bene o male vanno benissimo entrambi quindi per tirare un po' le fila delle conclusioni di questo video e decretare se effettivamente questo i5 sia valido o meno effettivamente già l'abbiamo dimostrato con i test di produttività e in gaming ci troviamo di fronte a una cpu sicuramente molto capace e prestante anche in molti ambiti certo non sono da tralasciare aspetti come il prezzo o la piattaforma di cui adesso andremo a parlare e iniziando col prezzo ci troviamo davanti a un processore che viene proposto a un prezzo MSRP di 250 euro nuovo che non è così male però potremmo scegliere ecco qualcosina di meglio se andassimo a spendere veramente anche 50 euro di più uno dice 50 euro non sono pochi ok però ecco già 300 euro a volte anche meno effettivamente in offerta e si parla di cpu nuove ci possiamo trovare il 13600K il fratello maggiore che magari si in termini di core count è identico ok come frequenze invece è un pochino più spinto vi permette di fare overclock e qui ecco se avete una buona scheda madre potete poi andare a sbizzarrirvi e l'altra cosa poi che potremmo avere dei vantaggi non indifferenti per quanto riguarda l'aumento della cache di cui vi ho parlato prima perché il 13600K vi ricorda avere 2 mega di cache L2 per core rispetto a questo i5 13500 che invece ha 1,25 mega di cache per core tra l'altro anche la cache degli e-core è diversa ne abbiamo ovviamente di più nel 13600K tutto questo per avere poi in complesso una cpu che è effettivamente più pompata e più potente nei vari giochi e nelle applicazioni l'altro processore da considerare è ovviamente il Ryzen 7 7700 che abbiamo visto sia da qualche store terzo sia da Aliexpress a prezzi ecco sui 250 euro e se siete fortunati veramente rasente i 200 euro e a quella cifra devo dire che il Ryzen 7 fa veramente un'ottima ma un'ottima concorrenza soprattutto poi se consideriamo l'aspetto upgradabilità e longevità della piattaforma perché diversamente dall'i5 13500 il Ryzen 7 è sul socket AM5 che ha appena visto la sua prima uscita e da quanto è stato dichiarato da AMD sarà supportato ancora per almeno una o due generazioni che verranno in futuro e per questo ecco vi permetterà di fare upgrade senza particolari problemi probabilmente solo anche con un aggiornamento BIOS della scheda madre mentre l'i5 come sapete è bloccato dal socket LGA 1700 che si ha visto l'ultima revisione con il 14esima generazione che sono un refresh spudorato degli stessi Raptor Lake di questa generazione di cui abbiamo parlato oggi quindi ecco non avrete chissà che beneficio e per questo dovrete considerare anche questo aspetto se volete andare a fare una piattaforma nuova che dovete mettere in conto che il socket LGA 1700 attualmente è sostanzialmente morto se però andiamo a considerare questo processore nel mercato dell'usato devo essere sincero è ancora molto molto allettante per il fatto che si può trovare attualmente intorno ai 200 euro su subito e su ebay magari anche qualcosina meno io vi dico questo i5 l'ha preso il mio amico Lorenzo e l'ha pagato 150 euro ed è perfettamente funzionante e preso usato su mi pare subito.it quindi in questo caso c'è poco da dire a questo prezzo è un ottimo acquisto però ripeto se invece dovete andare a prendere nuova questa CPU attualmente secondo me non conviene particolarmente anche per il fatto che esiste lo stesso 14500 quindi nuova generazione che parliamo della stessa identica architettura ma con frequenze più alte di circa 200 MHz che non è così poco e potrebbe in alcuni casi andare a superire ecco la differenza un minimo che c'è nelle prestazioni in single core rispetto magari a un'architettura Ryzen come abbiamo visto in questo video anche lì però dovete considerare un po' i prezzi anche delle altre CPU che sono nell'intorno di questo i5-13500 o 14500 quindi sempre questi 250 euro e anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video io spero che vi sia piaciuto se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa CPU Intel detto questo vi consiglio due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello dedicato a Ryzen 7 7700 che abbiamo visto qualche settimana fa mentre il secondo video che vi consiglio è quello sull'i9-13900K che abbiamo testato qualche mese fa e di cui vedete la scatola qui è le mie spalle sia a stock che in undervolt e abbiamo visto l'efficienza energetica davvero interessante ovviamente dopo essere andati a tweakare un po' i parametri di undervolt e se siete arrivati fin qui io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi